Il gruppo delle ragazze fidanzate di Tentation Island è tornato quasi al completo e non sono sole. Perla, Alessia, Francesca e Vittoria si sono concesse una serata di divertimento sfrenato insieme ai tentatori Igor, Alberto, Daniele, Lorenzo e Fuà. Il tutto è stato documentato nelle storie Instagram dei ragazzi e alcuni commenti piccanti non sono passati inosservati ai fan, che hanno subito acceso la speranza su una coppia in particolare. Al Carnesa, a Roma, è stata documentata nelle loro storie Instagram la loro reunion. In alcune storie il tentatore Daniele si è fatto uscire qualche parola di troppo sulla nuova coppia formata da Perla e Igor. Dopo aver legato molto durante Tentation Island hanno deciso di continuare a frequentarsi, una volta che la relazione della ragazza con Mirko è naufragata. Daniele ha detto, io di belli ne ho visti eh, ma come siete belli voi nessuno. Lei vicino a te splende proprio, le è ritornato il sorriso. La serata è continuata tra selfie e tanto divertimento. Grazie. 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 Grazie a tutti